Ecco questa è la borsettina che ho fatto questa mattina. E' molto semplice perché poi se vogliamo vedere è fatta da due lati uguali cuciti dritto contro dritto, girati e cuciti tutto intorno per formare una parte indipendente. Stessa cosa su questo lato, due lati uguali sono due rettangoli cuciti dritto contro dritto e poi rovesciati e saldati con un'altra impuntura sempre a macchina. La parte del fianco e del fondo, che in questo caso è 88 cm perché non mi ricordo esattamente la misura che ho scelto, che viene anche questa fatta con due parti uguali dritto contro dritto, girato e poi impunturato tutto intorno per fare questo effetto con questa cucitura che lascia la borsa con questa forma e che viene attaccato sempre a macchina, pinzandolo con le mollette come avete visto prima. Poi ho messo l'automatico per fermarla, poi ho messo le piccole borche per attaccare questi laccetti di cuoio, ho fatto anche la tracolla allo stesso modo. Voi potete scegliere tessuto, colori, ma comunque il metodo non cambia. Alla fine è una situazione sicuramente molto simpatica e può diventare anche un oggetto molto curato nei dettagli. Questa è molto semplice, ma è molto carina poi, è anche indossata, è molto carina. Seguitemi perché ne farò sicuramente di nuove. Ciao!